Dopo anni di purgatorio legati a vicissitudini societarie più che sportive, l'Umana Reier Venezia torna nel massimo proscenio cestistico al termine di una stagione esaltante dove le ragazze di Coac Libera Lotto, oltre al successo in Serie A2, conquistano anche la Coppa Italia di categoria al termine di una entusiasmante finale con Ragusa, disputata di fronte ad un migliaio di spettatori al palasport di San Martino di Lupari, alta padovana. Temperamento e caratura tecnica sono le caratteristiche che hanno accompagnato l'annata delle veneziane e che sono state esaltate dal terribile andamento del confronto con le siciliane, quasi sempre avanti nel punteggio, ma la prestazione collettiva dove sono emerse alcune straordinarie individualità quali Pertile, Melchiori e Marangoni e la fame di successi hanno fatto la differenza, riconsegnando al presidente Luigi Brugnaro un'abbinata da A1, sia maschile che femminile, unica in Italia, premiandone la caparbietà a dispetto del difficile momento economico vissuto anche dallo sport. Un formidabile esempio della possibilità di puntare in alto tenendo i piedi ben saldi a terra prima di sospendersi in volo e sferrare il tiro decisivo.